Giotero Kujo, anni 95. Altezza un metro e cinque. Il padre è giapponese. Sono giapponese? Attento ragazzo, non è questo il modo di rivolgerti a tua madre. Mai! Non dammi la mia madre! Va bene ancora! Mai! Va bene! Mi spesso la faccia! Adesso dobbiamo pensare a riportare a casa i nostri malo. Dovrò usare le maniere forti. Non importa quanto tu sia forte, non puoi vincere. Aspettate un attimo. Eeeh, che riso il mio riso? E quel bastardo lo ha rubato! Certo che è suo, ma è anche mio. Ve lo mostro subito, anche se probabilmente ne sarete terrorizzati. Coraggio, belli, mettetevi in fila! Non è stata un'esperienza piacevole. Questa poi, guardate, è uno scimmione. Dicks out for Harambe, you know what the fuck it is. Dicks out for Harambe! Quest'uomo è rimasto fedele al codice cavalleresco. Non possiamo lasciarlo morire, poi potremmo rimpiangerlo. Non possiamo lasciarlo morire. Magnifico! Allora preparatevi, si va tutti in Egitto! A brutto, maniaco, sordomita! Oh, guarda che non so sordomita, ci sento io, eh! Sapete, quando massica i capelli di qualcuno, gli molva delle puzze tremende in faccia. No, per carità, sono impresentabile, mi devo fare una dorso! Per favore, un po' d'acqua. Natale sul vino, a Natale, al cinema! Mi hanno fatto andare verso via Mantova, a braccetto, a minacetto, ti prendiamo a schiaffetto. E gli ho detto, sculacciatemi, cosa cazzo pagatonate? Tanto non scopo, cioè, avete i miei condimenti. Ok, con un cotto! Grazie a tutti.